come fare un lavandino funzionante su minecraft ecco quello che vedremo oggi in questo video un lavandino funzionante con acqua su minecraft come quello che stai vedendo a video ora la sigla del canale e vi saluti a fine video ciao sono Marco Vigelini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video perfetto questa è la struttura che andrà ad ospitare il nostro lavandino funzionante in minecraft questi sono gli oggetti di cui necessitiamo cioè lastra di legno di guercia, lastra di legno di rovere un insegna poi gancio a filo ed un bel pulsante common block e pietra rossa le vedremo insieme andiamo avanti per costruire questo lavandino la cosa più importante da fare è avere una base per il nostro pavimento costituita da una lastra questo perché in questa posizione adesso costruiamo soltanto la parte estetica perché in questa posizione dove andrà il nostro lavandino dobbiamo andare a posizionare tre blocchi di un colore differente perché solo in questo modo riusciamo a mettere le insegne in questo modo ok e far sembrare che siano un lavandino se avessimo utilizzato per esempio questa altezza quindi un blocco di altezza le insegne sarebbero andate così se avessimo utilizzato il doppio blocco le insegne di nuovo in questo modo insomma l'altezza giusta è quella di posizionare un pavimento di lastra e poi salire di tre blocchi in modo tale da creare il nostro il nostro lavandino qui metteremo il nostro rubinetto momentaneamente cambiamolo e mettiamo questo blocco perché iniziamo con i command block per i command block ti ricordo che devi avere nelle tue impostazioni gioco questa opzione attivata cioè attiva i trucchi devono essere attivi e poi nello specifico siccome dobbiamo determinare le nostre coordinate attiva anche la linguetta mostra coordinate poi per darti il command block give chiocciola s command block dai invio io me l'ero già preso abbiamo il nostro command block e incominciamo a posizionarlo mettiamolo momentaneamente in questa posizione poi il nostro gancio a filo andrà ad occupare questa posizione per adesso mettiamoci questo bel blocco di calcestruzzo perché ci fa comodo guardarlo poi digitare dalla chat dei comandi il comando set block e poi con la tabulazione comunque ci da il suggerimento delle coordinate del nostro blocco e sono meno 171 77 140 allora a questo punto io mi sono segnato queste coordinate posso anche togliere il blocco e vado ad inserire il command block che ci interessa eccolo riportato particle minecraft due punti water underscore drip underscore particle e poi le coordinate di destinazione cioè quelle che avevamo individuato con il blocco grigio cioè meno 171 77 140 allora per adesso queste coordinate vanno bene vediamo cosa succede poi le andiamo a modificare perché errore no dovrebbe funzionare allora cosa faccio prendo ovviamente il mio bel pulsante ci clicco sopra e vedete che qualcosa sta uscendo ovviamente ci serve un blocco di tipo ripetizione ok in modo tale da essere più a lungo attivato per produrre questo effetto allora a questo punto io direi di incominciare a mettere il nostro gancio a filo poi tengo il control premuto poi premo contemporaneamente anche il tasto la rodellina del mio mouse così mi sono preso il command block che vado a mettere qua dietro e all'interno si è copiato anche il mio bel comando questo perché così tolgo tutta questa roba metto il pulsante e dovrei già aver creato qualcosa di interessante ora se vogliamo essere veramente precisi io prendo questo command block che avevamo già clonato e ha la stessa diciamo gli stessi comandi metto un altro pulsante qui perché ti faccio vedere come vediamo se io guardate le coordinate se io vado verso sinistra il 140 diminuisce diventa 139 se io vado verso destra il 140 diventa 141 quindi io vorrei che la goccia d'acqua si avvicinasse un po' di più verso il gancio quindi devo un po' diminuire questo valore proviamo a mettere proviamo a mettere per esempio un qualcosa che mi dica 140 punto 4 me lo fa spostare un po' verso sinistra perfetto se io mettessi invece per esempio qui un 140 punto 7 ok me lo sposterebbe un po' verso destra guardate ok quindi l'effetto che voglio che ho voluto simulare ok è di spostarlo verso il gancio in pratica quando invece utilizziamo soltanto il valore 140 lui lo considera come se lo mettessimo a 140 5 quindi 140 4 ce l'ho spostato leggermente vicino al gancio ed io preferisco questa soluzione poi un'altra cosa di interesse ok allora mi riclono questo blocco perfetto questo lo posso distruggere mi vado a portare questo blocco quello con ok il punto 4 vediamo se ci ho messo qualche lo sapevo io così cosa voglio fare vi voglio ricordare di utilizzare per esempio il la struttura che abbiamo creato per trasformare un pulsante in una leva c'è un video arrivare veramente mi sembra che ci siano o due o tre di come si trasforma un pulsante in una leva in modo tale che quando si clicca il rubinetto tira fuori l'acqua in continuazione riclicco il pulsante e il flusso di acqua si interrompe cosa dovete fare ovviamente la costruzione ve la rimando al video di cui vi stavo parlando è sufficiente cercare come fare il pulsante come una leva sul mio canale il concetto è che dovete trasformare l'uscita di quel circuito che costruirete esattamente qui a un certo punto c'è un circuito elettrico ecco questo dovete soltanto prolungarlo e farlo raggiungere su quel blocco che avete ovviamente allontanato per fare spazio alla struttura del pulsante come una leva scrivimi nei commenti se e dove costruirai questo lavandino funzionante su minecraft se non sei iscritto al canale fallo adesso cliccando sulla campanellina e attivando tutte le notifiche poi commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto giuseppe anna ed alessandro che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento ciao ciao